buonasera a tutti siamo molto felici di presentare il film regranchio al festival di mar del plata in competizione internazionale questo è il terzo capitolo della collaborazione tra me e adesso ricoderighi che parte diciamo da una piccola casina di caccia dove si raccontano delle storie questo terzo capitolo appunto ci porterà alla fine del mondo in argentina hola a tutti è un placer per noi siamo molto contenti di poter presentare la nostra film grazie a tutti grazie 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 grazie